A tutto il pubblico di canottaggio video di nuovo buon pomeriggio, manca veramente pochissimo all'appuntamento internazionale più atteso, possiamo dire così, la quinta regata internazionale Adaptive Rowing e con noi un po' l'ideatrice Paola Grizzetti. Paola come sta andando questa organizzazione? L'organizzazione sta andando bene, vedremo quando arriveranno gli stranieri come, no, sicuramente li accoglieremo come al solito, siamo più che collaudati e ben addestrati per gestire tutto al meglio, saranno circa una decina di nazioni che arriveranno a trovarci e poi bando, cioè, apriamo le danze e vediamo insomma. Quest'anno tantissima carne al fuoco, addirittura a Gavirate ci si darà appuntamento da giovedì? Da giovedì, come considerate, abbiamo organizzato questo workshop per, diciamo, istruire altre nuove persone alla fine di classificare i nuovi atleti. Il workshop che si tiene a Gavirate quest'anno è il terzo, non è il primo assoluto, uno è già stato fatto anche a livello internazionale e adesso si riparte cercando nuovi volti al fine di inserirli anche in un complesso mondiale di classificazione. Sono state chiuse le iscrizioni, abbiamo visto nomi illustri, possiamo dire così, tanti atleti che hanno già preso medaglie mondiali, anche per loro sarà un test. Quali saranno gli equipaggi più attesi, i più temuti? Più temuti? La squadra ucraina secondo me è la migliore al momento che c'è, nel complesso di squadra. L'Inghilterra si sta allenando sul lago di Varese ma non ha voluto partecipare alla gara secondo i loro criteri, quindi non possiamo metterli in discussione. Abbiamo anche la Polonia che è una bellissima squadra, sta crescendo molto anche con i quattro confisici e vediamo, vogliamo misurarci con loro. Noi abbiamo ragazzi nuovi che devono fare la loro prima esperienza a livello internazionale e non sarà cosa facile, però ci proviamo. E allora diamo appuntamento a tutti gli appassionati di canottaggio da giovedì a domenica sulle rive del lago di Varese a Gavirate per la quinta regata internazionale Adaptive Rowing. Grazie Paola ancora per essere stata con noi. Grazie e seguiteci. Grazie. Grazie. Grazie.